Comodamente seduta su una potrona relax da Cattai a Perignano, vi voglio parlare dei multi-club, come li definisce Roberto Picinelli nella Guida al Piacere e al Divertimento. I multi-club sono locali polifunzionali in grado di proporre più formule vitale in un'unica struttura, ottimo per gli incontentabili e per gli indecisi cronici. Gli Oscar del Piacere 2009 vanno ai multi-club Argentario Golf Resort di Porto Ercole a Grossetto, il Flenille Fluo di Bologna, il Jack & Joe Theater di Cerbaia a Firenze, il King Kong di Torino e il Telemar a Palermo. Voi continuate a seguirci per conoscere i locali più innovativi ed originali, secondo il parere di Roberto Picinelli, autore della Guida al Piacere e al Divertimento che potete trovare in libreria.